Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo test mod, finalmente era un po' che non si portava un test mod causa morì a mod e oggi è uscito qualcosa di interessante e subito ne voglio approfittare per portarvi un po' di lobbina. Oggi vi porto il John Deere 6300-6405, una mod sia per console e sia per PC, ragazzi miei. Eccola qua, molto carina devo dire, mi ha colpito subito per gli amanti non solo dei John Deere ma anche dei mezzi old. Come vedete è in due configurazioni, una con le ruote davanti piccole e una con le ruote un pochino più grandi. Adesso andremo piano piano a vedere tutte le configurazioni di questo trattore. Prima, come al solito, vi sto facendo fare un bel girettino a 365 gradi della moddina. Da notare la griglia, tutta la trasparenza della griglia, guardate, si vede dentro, si vede tutto dentro, molto 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 carino. Allora, andiamo a vedere dove lo troviamo questo mezzo. Questo mezzo lo troviamo dentro veicoli, trattori piccoli, perché è un trattore di piccola cilindrata. Come vedete avete le due versioni, 4x2 e 4x4. Adesso vi faccio vedere la prima, il 6300, 4x4, come vedete 100 cavalli di potenza base, ma il motore può essere, diciamo, un pochino pompato, pompato, 5 cavalli in più, al 6405. Quindi dai 100 ai 105 cavalli, ovviamente, ragazzi, per 2100 euro io vi consiglio avere quei 5 cavalli in più, è comunque schifo, non fanno. Poi configurazione standard o i pesi davanti, da 240 al massimo di 5,60. Marca gomme, abbiamo tre marche. Trelleborg, Michelin e Lizard, entrambe con varie configurazioni che adesso vi sto facendo vedere. Ecco qua, guardate qua, queste sono le Trelleborg, queste sono le Michelin, yeah, le Michelin. Guardate quanti tipi di gomme. E queste sono le Lizard, quindi, ragazzi, abbiamo un bel po' di tipi di gomme, eh, per gli amanti di queste. Guardate queste, spettacolo, queste sono proprio da fango, proprio da fango super scanalate. Eccole qua, insomma, per gli amanti delle varie ruote. Poi abbiamo la marmitta, potete scegliere la marmitta originale, quella cromata sopra e sotto originale, oppure tutta cromata. Tutta cromata. Ma come vedete c'è anche la possibilità di scegliere un colore. A cosa si adatterà questo colore? Al sedile. Se voi guardate il sedile potete scegliere l'originale, oppure farlo nero, oppure farlo grigio, oppure farlo di questo colore qua, che lì c'è scritto litter, non lo so. Io lo vedo color budino, non lo so, vabbè. Comunque potete scegliere quel colore lì. Stesse identiche impostazioni per quanto riguarda la versione 4x2. Come vedete le ruote, eccetera, eccetera, quindi non cambia assolutamente nulla. Se voi entrate con me nel mio bellissimo negozio, nella mia officina personale, vi faccio vedere anche il dirt e l'usura. Come vedete il dirt e l'usura sono molto standard, eh. Diciamo, ci sono limitati modder a dagli quello standard Giants. Eccolo qua, vedete all'esterno, le ruote. Adesso vi faccio anche salire, eh, così vediamo anche lo sporco e l'usura all'interno. All'interno l'usura è poco e niente. Proprio qualche scrostatura qua e là, sui pedali, insomma, molto, molto, molto standard. Devo dire che invece mi piace molto lo sporco dell'interno, perché hanno sporcato il sedile. Guardate il sedile sporco, per me il sedile sporco è già una vittoria. Ma hanno sporcato anche lì dove ci sono tutti i comandi e sporco il tappetino con tutte le pedate, eccetera, eccetera. Insomma, devo dire che il dirt dentro lo hanno messo veramente bene. Quindi promossissimo il dirt, l'usura abbastanza standard. Guardate i vetri sotto, sopra non c'è vetro. Va bene, dai, il tutto lo promuoviamo alla grande, ma io direi di andare a sentire il sound e di accendere il mezzo. Vedete, il mezzo è già acceso, adesso ve lo rispengo. Innanzitutto vi faccio vedere gli interni e vi faccio ascoltare l'accensione. Da notare la levettina. Guardate, eh. Avete notato la levettina? Ecco qua. Vedete l'animazione di tutte le leve. State guardando? L'animazione di tutte le leve. Purtroppo l'operaio ha constatato che non muove la mano sulle leve, però... Pazienza, dai. Comunque noi quando siamo dentro in prima persona riusciamo a vedere tutto il movimento delle leve. Poi andiamo ad usare questo trattorino Sopedana concimata al campo. Così lo vediamo anche da fuori. E ne sentiamo anche il sound esterno. Eccoci. Eccolo qua. E andiamo un attimo a testare le luci. Allora, abbiamo le luci quelle normali. Eccole qua. E abbiamo le luci quelle posteriori da lavoro. E abbiamo quelle davanti aggiuntive. Quindi abbiamo tre tipi di illuminazione. Vedete anche all'interno. Il cruscotto si accende. Con i tre tipi di luci. Ecco qua. E possiamo tranquillamente... Quelle sono le frecce, ovviamente. Quelle che vedete davanti. Potete tranquillamente fare il vostro lavoro di notte. Che questo mezzo illumina veramente molto molto bene. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di questo bel John Deere. Se lo scaricherete, se lo state usando. Insomma, commentate, commentate, commentate. Io vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Che per chi sta da questa parte dello schermo, insomma, è importantissimo. Un vostro like. Commentate. Insomma, fatemi sapere come sempre. Io vi ricordo due cose fondamentali. Uno, che il canale vive e va avanti solo grazie all'aiuto degli sponsor. Che sono gli amici abbonati. Grazie veramente di cuore. E l'altra è che sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20 e 30 sull'altra piattaforma che trovate in descrizione. Amici, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!